Per la nostra università ormai è una tradizione quella di presentare il dossier statistico e quindi vorrei fare un ringraziamento particolarmente sentito ai colleghi e alle colleghe che hanno curato questa organizzazione, come alla professore Steliana Agusti, al professore Daniele De Luca, ma anche ai direttori di dipartimento che hanno fortemente sostenuto questa iniziativa, al professore Mariano Longo che è il direttore del Dipartimento di Storia e Società e Studi sull'Uomo e al professore Luigi Melica che è il direttore di Scienze Giuridiche. Oggi con noi vi presento velocemente i relatori, chi prenderà la parola, abbiamo con noi l'assessore Silvia Miglietta, l'assessore del Comune di Lece che ringraziamo per la sua presenza, l'assessore Miglietta non ci fa mai mancare la sua partecipazione e siamo particolarmente felici anche perché è un assessore che oltre a essere impegnata nel suo lavoro e nel suo ruolo istituzionale è sempre presente anche in prima linea su questi temi. C'è con noi il professore Mariano Longo che è direttore del Dipartimento di Storia e Società e Studi sull'Uomo, come vi dicevo, il professore Melica penso ci raggiungerà direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Eliana Agusti che è presidente del corso di laurea in Governance Euro-Mediterranea delle politiche migratorie, che quindi ho partecipato all'organizzazione di questo evento, e il professore Daniele De Luca che è presidente dei corsi di laurea in area politologica. Abbiamo la fortuna di avere con noi e ringrazio particolarmente per aver accettato il nostro invito Antonio Ricci del coordinamento nazionale del dossier statistico e immigrazione del centro studio IDOS che da 30 anni oramai porta avanti questo importante lavoro di documentazione su quella che è la presenza straniera, questa fotografia sociostatistica che ci restituisce quella che è la presenza straniera nel nostro territorio e che come vedremo serve anche a smontare tante retoriche che sul fenomeno sono costruite. E poi abbiamo anche la partecipazione di Azmi Gerawai, perdonerà la pronuncia del suo cognome, che è il referente del Dipartimento Politico e Migratore della CGL che da diversi anni sostiene anche attivamente la pubblicazione del dossier statistico e immigrazione, Stefania Gualtieri della Fondazione Emanuel e Maria Rosaria Faggiano, appena riuscirà a risolvere i problemi tecnici della Camera degli Avvocati Immigrazionisti di Lecce. Io prima di passare la parola all'assessore Miglietta per il suo intervento vorrei condividere con voi un pensiero e vorrei dedicare anche questa presentazione che stiamo facendo ad una persona eccezionale che ha fatto tanto e che tanti di noi che oggi sono qui hanno avuto la fortuna di incrociare, che è Monica Del Maso, che purtroppo è venuta a mancare proprio qualche giorno fa. Monica è stata una grande costruttrice di ponti, ha lavorato sempre a fianco per la difesa dei diritti dei migranti, per la difesa dei diritti degli ultimi, è stata una militante dei diritti, è stata per tanti anni anche nella segreteria regionale di Libra, quindi ha avuto un forte impegno anche nella lotta alle mafie e negli ultimi anni Monica ha dedicato tutta se stessa alla causa e ai diritti dei migranti, oltre a coordinare diversi centri sprare e siproimi per l'Arci Bari, Monica era una donna che noi abbiamo sempre incontrato sul campo, dove c'era un diritto che veniva negato c'era Monica e Monica è stata una grande costruttrice di ponti e purtroppo ci ha lasciato prematuramente qualche giorno fa. Sono sicuro che sarebbe stata anche oggi con noi, l'abbiamo incontrata tante volte e mi piaceva ricordare il suo impegno e soprattutto mi piace pensare e l'augurio che ci facciamo è quello di continuare tutti a lavorare anche seguendo quello che è stato il suo impegno. Io darei adesso la parola all'assessore Miglietta per i suoi saluti, che conoscendola non saranno solo saluti, insomma per il suo intervento e ringraziandola nuovamente per aver accettato l'invito a partecipare. Prego Silvia. Grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti direttori, professori, professoresse e grazie ad Antonio che ci ha tenuto alla mia presenza. Io diciamo non amo i saluti istituzionali, motivo per cui sappiate che resterò fino all'ultimo secondo della presentazione di questo dossier, perché ritengo che sia un argomento molto importante e seguo sempre con piacere la presentazione annuale perché anche a noi fornisce strumenti importanti di lavoro. Io all'interno dell'amministrazione ho la delega all'accoglienza, che è una delega che a me piace particolarmente, già mi piace la parola accoglienza e che mi impegna molto in prima linea nell'affrontare poi il tema della presenza degli stranieri, degli immigrati nella nostra città, che mi mette al fianco quotidianamente delle comunità residenti nella nostra città. Io volevo iniziare dando un piccolo contributo sulla situazione che c'è a Lecce, che è fotografato stamattina con i dati del nostro ufficio anagrafe e poi magari mi riservo se è possibile di intervenire nel corso della conversazione quando entreremo più poi nel dettaglio della presentazione del dossier. Quindi volevo dirvi che nella nostra città attualmente ci sono circa 8500 cittadini stranieri residenti. Ricordo, aprendo una parentesi, che quando si è insediata questa amministrazione a luglio del 2019, uno dei primi provvedimenti del sindaco fu quello di autorizzare l'iscrizione anagrafica delle persone richiedenti di riconoscimento della protezione internazionale, che in quel momento era sospeso a causa del decreto sicurezza, era entrato in vigore pochi mesi prima e quindi all'epoca il sindaco decise di assumersi questa responsabilità sulla scia anche di quello che facevano altri sindaci in altre città. Quindi tornando a quello che dicevo prima, noi abbiamo in questo momento circa 8500 cittadini rappresentanti di 111 paesi, che a me mi sembra una cosa meravigliosa. Di alcuni paesi abbiamo anche solamente una o due persone residenti, però intanto abbiamo una rappresentanza di 111 paesi del mondo nella nostra città. Sono sei le comunità che fanno la metà del totale, sono cittadini srilanchesi, filippini, rumeni, provenienti dal Senegal, dall'India e dall'Albania. Sono le comunità più numerose, sono anche le comunità che da tempo sono presenti nella nostra città e più o meno leggendo anche i dati della provincia che riporta il professore Ciniero, all'incirca ci troviamo. Noi abbiamo per esempio una presenza inferiore di cittadini marocchini rispetto poi al totale presente nella nostra provincia, però comunque queste sono le comunità più rappresentative e anche facilmente spiegabile, considerato poi la maggior parte dei lavori che si svolgono e trovano la possibilità di svolgere una volta arrivati qui. In questo anno così difficile che abbiamo vissuto, l'amministrazione ha potuto erogare i buoni spese a sostegno delle famiglie iniziato durante la pandemia e che ha visto poi i buoni erogati per tre volte di seguito. Io ho verificato che circa la metà delle domande è stata presentata da cittadini stranieri e lo stesso dato vale anche per un'altra misura che adotta annualmente l'amministrazione che è quella per il rimborso affitti, c'è un contributo che si riconosce alle persone che vivono in affitto e anche qui la metà delle domande è arrivata da cittadini stranieri residenti a Lecce. Che cosa ci dice questo? Che comunque sono persone raggiunte dalle informazioni, cioè che riescono ad avere le informazioni per accedere a queste misure. Questo non è scontato, tra l'altro anche durante la pandemia ci eravamo anche impegnati a diffondere in diverse lingue le misure di precauzione, tutto quello che ognuno di noi doveva affrontare in quel periodo grazie all'aiuto di un'associazione, ma c'è anche collegata con noi Stefania Gualtieri di Fondazione Manuel che è stata anche lei in prima linea con noi durante la pandemia nel realizzare queste attività. Quindi abbiamo cercato sempre, soprattutto in quel periodo, di assistere anche dal punto di vista linguistico e quindi per avere per diffondere al meglio le informazioni queste persone. Questa cosa è possibile perché nella città esiste una fitta rete di associazioni, molte fanno riferimento alle parrocchie, alla Caritas di Ocesana che riescono a dare supporto concreto, assistenza concreta a chiunque ne abbia bisogno. Quindi evidentemente il fatto che poi riusciamo ad avere questo dato per me è molto confortante perché vuol dire appunto che è un'informazione che riusciamo a divulgare nella maniera giusta. Ovviamente il nostro impegno è quotidiano e non è semplice nella misura in cui poi il momento è complesso, le complessità aumentano, alcuni lavori sono venuti a mancare, quindi diciamo in questo momento affrontiamo tanto il bisogno materiale. Però un'altra cosa su cui siamo anche molto concentrati è l'assistenza dei bambini stranieri nelle scuole e quindi con un'altra associazione che gestiva un progetto contro la povertà educativa siamo riusciti a convogliare diversi bambini in un doposcuola pomeridiano e un'assistenza per la didattica a distanza che alcuni strumenti nuovi che ci siamo trovati ad utilizzare in questo periodo non erano scontati per noi, sono stati ancora più difficili per chi magari aveva anche problemi di diversa natura tipo mancanza di tablet, di connessioni eccetera o anche semplicemente di conoscenza della lingua italiana come è successo per tante mamme. Quindi io mi fermo qui ripeto e poi magari se è possibile intervengo successivamente. Grazie. Grazie Assessora, ovviamente è possibilissimo che intervenga successivamente, grazie perché come al solito non è stato un semplice saluto ma ci serve, ci ha restituito una prima fotografia di quella che è la presenza straniera sul territorio e già questi dati ci dicono di quanto si tratta di una presenza che noi continuiamo a considerare straniera ma che in realtà fa parte del tessuto della città. Molte di queste comunità sono presenti sul territorio da oltre un trentennio quindi di fatto come dire sono cittadini leccesi a tutti gli effetti senza avere però il riconoscimento della cittadinanza e anche su questo ricordo un'iniziativa simbolica ma molto importante che fu fatta proprio anche dall'amministrazione, dalla prima amministrazione che fu a guida Rosalvemini che fu riconoscere la cittadinanza onoraria a tutti i figli dei cittadini stranieri nati nella città. Questo è sicuramente un gesto importante perché ci ricorda che ancora noi abbiamo tutta una serie anche di strumentazioni come dire anche legislativi che sono piuttosto arretrate rispetto a quella che è l'evoluzione sociale che noi conosciamo sul territorio. Quindi grazie ancora di questo dato sulla cittadinanza che mi avevi chiesto che purtroppo non è un bel dato perché quest'anno noi abbiamo concesso 40 cittadinanze a cittadini brasiliani che spesso hanno poi parenti originari quindi riescono ad avere la cittadinanza, 18 cittadinanze italiane a ragazzi neomaggiorenni, 11 attestazioni di acquisto di cittadinanza per figli minori conviventi con persone che sono riuscite ad avere la cittadinanza e 27 decreti di concessione questa è una cosa che io non conoscevo o l'ho saputa oggi, concessioni di cittadinanza disposte da altri enti per esempio dal Presidente della Repubblica piuttosto che dalla Prefettura quindi una concessione diretta della cittadinanza italiana quindi stiamo parlando di poco meno di 100 persone che hanno avuto la cittadinanza italiana per questo non l'avevo detta non era un dato purtroppo molto confortante. Grazie, io darei la parola al direttore Mariano Longo per il suo intervento, direttore del Dipartimento di Storia e Società e Studi sull'Uomo. Un piccolo intervallo per riaccendere il microfono perché c'è il cane che non si è ancora abituato il telelavoro quindi quando sente voci estrani in casa e incomincia ad abbagliare. Sì, io in realtà ringrazio innanzitutto Silvia, Silvia Miglietta che è il mio assessore, oltre ad essere una persona che conosco e che è un'amica perché è stata in grado con poche battute semplici e senza nessuna retorica, di ricondurre il tema della migrazione alla sua vera essenza, cioè alla normalità della presenza di migranti nei territori. Perché purtroppo quello che noi viviamo quotidianamente non lo viviamo più perché poi con tanta intensità, come è successo fino a qualche mese fa potrei dire, perché poi in realtà i temi di rilevanza pubblica sono steri assorbiti quasi totalmente dalla pandemia, però il modo in cui lo straniero viene rappresentato soprattutto nei media riguarda per così dire una molteplicità di stati d'eccezione, per cui le storie di migrazione sembrano tutte storie tragiche, sembrano tutte quante legate a percorsi per così dire enfatizzati o come invasione oppure come questione criminale, questione legata alla possibilità o meno degli italiani di lavorare, tutta una serie di cose che noi conosciamo benissimo. Invece il migrante o lo straniero meglio, chi potrebbe anche diventare presto italiano è qui, ed è qui in maniera evidente con i problemi che la presenza di persone che lavorano spesso in settori marginali, ma a volte anche con capacità imprenditoriale forte, produce e comporta. Quindi il richiamo alla concretezza delle politiche sociali comunali, che sono politiche apparentemente spicciole ma rispondono a bisogni concretissimi, a me sembra uno degli elementi più importanti. In realtà io ho sempre trovato stimolante il dossier statistico sulle migrazioni, proprio perché demitizza l'idea secondo la quale il migrante ha un problema, oppure in ogni caso un elemento da tenere in conto per risolvere questioni. C'è una costellazione di problemi intorno al migrante che dovrebbero essere di volta in volta prese in carico, a prescindere dalla posizione ideologica a favore o contro la migrazione, ma la tematizzazione del migrante come problema o come costellazione di problemi in realtà si dimostra fallace perché il dossier, oltre ad evidenziare quanti problemi sono connessi soprattutto alle biografie dei migranti, evidenzia anche sempre come il migrante sia una risorsa per i territori e per il paese in generale. Fa crescere il PIL, attiva una serie di reti relazionali, si occupa di compiti di cura che spesso noi non vogliamo assolutamente prendere in carico e di questa capacità dell'ostrano risorsa, ci accorgiamo in realtà quando noi abbiamo problemi, per esempio con parenti anziani, per cui difficilmente ci rivolgiamo in italiana, con probabilità ci rivolgiamo invece o cerchiamo invece di trovare una caregiver che sarebbe poi una persona che si prende cura dei nostri cari che venga da altrove. D'altro canto però ci sono anche le storie e le fragilità e una delle cose che avremmo dovuto imparare dalla pandemia è che siamo tutti quanti inesorabilmente fragili e questo ci accomuna senza distinzione per così dire di nazionalità o di etnia, razza un termine brutto che non si usa più, me lo insegna Antonio Ciniero. Io non so quanto però questa consapevolezza che stiamo acquisendo faticosamente, stiamo imparando in questi giorni a sapere di persone a noi vicine che hanno contratto il virus o persone vicine a persone vicine a noi che sono andate via, insomma questa fragilità condivisa non so quanto ci insegnerà in realtà della fragilità altrui. Sta di fatto però che bisogna invertire il modo in cui ragioniamo intorno alle migrazioni e il dossier lo fa bene perché ci rappresentano una serie di dati che ci dicono di problematiche, per esempio il numero delle persone in carcere e tragicamente spostato verso stranieri e non italiani, ma ci dicono anche della capacità degli stranieri di rappresentare opportunità e risorse per questo paese. A me questa chiave di lettura piace molto e credo che di questa chiave di lettura continuerete a parlare, non perché ne abbia fatto scenno io, ma perché sta nelle cose, sta in un modo corretto di parlare delle migrazioni. Io a differenza di Silvia Miglietta devo lasciarvi per una serie di impegni che ho, devo chiudere alcune cose, ma anche perché sono attaccato al computer da questa mattina e quindi sto cominciando a non capire più in realtà se sono io quello vero oppure è quello che parla come figurina Panini, allenatore, perché alla mia età il calciatore non lo potrei fare e quindi ho bisogno di disintossicarmi dalla necessità di essere presente soltanto a altre persone che sono distanti da me. Quindi mi scuserete se non seguirò tutti i lavori, ma vi auguro di cuore di ragionare proficuamente intorno alle cose di cui abbiamo cominciato a ragionare adesso. Grazie tanto. Grazie davvero tanto, professore, per il tuo intervento. Vedo che il professore Melica non è connesso. Probabilmente, visto che ci stanno arrivando diversi messaggi, questo è legato anche al fatto che questa presentazione è andata anche molto al di là di quello che erano le nostre aspettative. Abbiamo superato, abbiamo raggiunto il numero limite, abbiamo superato i 350 partecipanti e quindi chi tenta di connettersi gli esce una scritta con su scritta appunto la riunione al completo. Proveremo a condividere poi il video anche con chi non sta riuscendo a partecipare. Come dire, è stato un inconveniente tecnico, però ci dice dell'interesse che c'è rispetto a questa tematica. Passerei la parola al professore Daniele. Scusate, volevo salutarvi e dire anche che forse appena esco io potrà entrare l'altro direttore. Non altro potrà entrare. Cari saluti e buon lavoro. Grazie, professore. Darei adesso la parola al professore Daniele De Luca che anche lui ha voluto tantissimo e ha sostenuto tantissimo questa presentazione. Il professore Daniele De Luca oltre ad essere il presidente dei corsi di laurea di area politologica insegna storia delle relazioni internazionali, storia del Medio Oriente. Quindi è uno studioso attento anche di quelle che sono le dinamiche che sono a monte poi delle migrazioni. Oltre ad avere un grande impegno che porta avanti da anni con il treno della memoria e con questo grande impegno che lo vede partecipe nel processo anche di coinvolgimento delle nuove generazioni attorno a dei temi tragici che, come dire, proprio in questi anni forse abbiamo ancora più bisogno di riflettere su questi temi. Do subito la parola a Daniele. Grazie Antonio. Anche se vedo Eliana collegata, forse in programma c'era prima lei, quindi le cederei la parola se vuole. Come vuole. Daniele, non ti preoccupare. Va bene. Ok, d'accordo. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Antonio, come ci dicevamo un po' di tempo fa, magari eri leggermente scettico, ma anche quest'anno, la presentazione del dossier statistico sull'immigrazione, lo facciamo. La facciamo e io sono contento anche per una ragione in particolare. Tu l'hai accennata alla fine della presentazione. Sono contento che la presentazione di questo dossier stia avvenendo in questa settimana, cioè la settimana della memoria, perché in un modo e in un altro, io lo dico sempre, non si equiparano mai nei genocidi, nelle tragedie eccetera, però c'è un, come dire, un filo rosso che unisce in un modo o in un altro la settimana della memoria a quello che stiamo per presentare, a quello che state per presentare. Vedete, c'è una questione di fondo che la lega ed è la questione del profughismo, della migrazione, della migrazione forzata, a volte della migrazione sperata. Mi rivolgo al tentativo, al profughismo ebraico pre-Seconda Guerra Mondiale, quindi pre-Soluzione Finale, quando in una maniera assolutamente inconcepibile e inaccettabile l'opinione pubblica internazionale e la comunità internazionale non vennero incontro a quelle che erano le esigenze di quelli che diventeranno i profughi ebrei. Nel luglio del 1938 Evian Levin si tiene una conferenza internazionale per tentare di risolvere quel problema, dare una casa provvisoria a chi tentava di fuggire dalle persecuzioni, che stavano diventando sempre più forti, sempre più violente. Bene, questo mi riporta in maniera drammatica all'attualità, cioè alla questione del profughismo di oggi, alle migrazioni forzate di oggi, c'è una chiara continuità, perché io rimango sempre particolarmente sorpreso in maniera negativa. Chi mi conosce sa che sono un ottimista per natura, però a volte rimango turbato da alcune considerazioni sull'attentativo di sminuire le migrazioni di alcune popolazioni nel tentativo di aiutiamoli a casa loro. Beh, il solito problema è che casa loro a volte è una casa che non c'è più, è una casa che non esiste perché è stata distrutta, perché non possono entrare in quella casa. Io cito sempre alcuni numeri che possono sembrare freddi, ma che non lo sono. Il continente, l'area geografica da cui maggiormente il teatro geopolitico, visto che insegno storia delle relazioni internazionali, che maggiormente rappresenta il bacino di migrazione, ovviamente è quello che sta di fronte a noi, che parte di fronte a noi e si espande nel continente africano. Io vorrei ricordare che in questo preciso istante, mentre noi parliamo, ci sono dei conflitti armati in Camerun, nella Repubblica Centroafricana, nel Chad, nel Mali, nel Niger, nella Nigeria, nella Somalia, nel Sud Sudan. Il Sudan forse ha risolto i suoi problemi, la Repubblica Democratica del Congo, del Burundi, in Etiopia, in Gambia, in Zimbabwe e altri che non voglio aggiungere. E questo cosa vuol dire? Vuol dire una forte migrazione per andare e tentare di fuggire alle persecuzioni, ma attenzione, quello di cui non si parla mai è tutta la migrazione interna, per esempio al continente africano, che crea ulteriori problemi ai paesi del continente africano. Quindi qual è la risposta? In questo momento, come è stato più volte detto, è una risposta particolarmente complicata, difficile, perché se da una parte si dice aiutiamoli a casa nostra, allora oggi aiutiamo noi stessi, visto il momento particolarmente complicato da un punto di vista sanitario. Invece dal mio punto di vista è questo il momento in cui maggiormente le porte dovrebbero essere aperte e il supporto dovrebbe essere dato a quelle persone che cercano di trovare un rifugio sicuro. Complicato, ma sicuro. Da un punto di vista della politica internazionale si potrebbero fare tante considerazioni. Guardando il dossier statistico vedo che molti dei canali di migrazione sono stati affrontati e ne sono felice. Ci sono canali più conosciuti e canali immigratori meno conosciuti, più sicuri e meno sicuri. Tra i sicuramente meno sicuri, e questo deve essere sempre ricordato, c'è la Turchia. È stata ripristinata un nuovo canale balcanico. Come vedete c'è una serie che è ovviamente chiuso anche a causa della pandemia e che quindi porta a prendere le persone che dovrebbero trovare un luogo sicuro, invece essere assemblate, scusate se uso questo termine, proprio il vero di essere assemblate in un luogo da cui non possono né entrare o né uscire, quindi subirne le conseguenze. Io voglio dire anche un'ultima cosa, poi lascio la parola ad Eliana. Noi stiamo scommettendo sulla preparazione delle persone. Lo fa Eliana con il suo corso di laurea, a cui io partecipo con molto piacere. Se tutto andrà bene, questa è una cosa che dipende soltanto da questioni prettamente burocratiche, l'anno prossimo noi apriremo all'interno dei corsi di laurea di scienze politiche che io presiedo una nuova laurea magistrale in scienze per la cooperazione internazionale. E questo lo faremo grazie a una serie di parti sociali, di associazioni che sono impegnate in questo progetto e soprattutto sfrutteremo, e uso questo termine proprio a proposito, sfrutteremo l'esperienza, le capacità delle due basi operative dell'ONU che si trovano a Brindisi e che in questi anni sono state anche punti di riferimento per il supporto delle persone che ne hanno avuto bisogno. Io credo di aver detto quello che dovevo dire, vi ringrazio, io rimarrò, per un po' sicuramente rimarrò, quindi vedrete ancora la mia faccia. Un caro saluto. Grazie tante Daniele per il tuo intervento, perché appunto inizia a mettere carne al fuoco, iniziamo a sviscerare tutta una serie di argomenti che saranno trattati e affrontati sicuramente da Antonio Ricci. Hai fatto benissimo a sottolineare l'aspetto delle migrazioni interne, lo diceva anche il professore Longo. Noi quando parliamo di migrazioni pensiamo solo ai flussi migratori che interessano i paesi del nord del mondo, ma in particolare i flussi migratori dovuti a quelle che sono le migrazioni forzate a causa di guerre o di conflitti, in realtà riguardano i paesi del sud del mondo, nel oltre l'80% del numero delle persone che si muovono sul pianeta. Così come hai fatto bene anche a ricordare la questione della Turchia, alla quale le migrazioni, insomma ce l'ha insegnato Abdelmalek Sayyad, sono un po' una sorta di specchio, nelle quali le società si riflettono. Ecco noi anche come europei dobbiamo porci anche criticamente delle domande, perché la Turchia, dove sappiamo qual è il livello di rispetto dei diritti umani, è stata destinataria di fondi europei che l'Unione Europea ha dato per trattenere di fatto migranti che sfuggivano da una guerra, da una crisi sicuramente come quelle che è presente in Siria, dove non abbiamo dubbi che ci sia una situazione di crisi. E la Turchia oggi è diventato un enorme campo profugo, e io lo ricordo a me stesso, che fra i vari problemi rispetto al rispetto dei diritti umani, la Turchia per esempio ha sia aderito alla Convenzione di Ginevra, ma con una riserva geografica. Quindi il che significa che riconosce la possibilità di essere riconosciuta come profugo solo ai cittadini europei, quindi tutti i siriani che oggi sono di fatto trattenuti in Turchia non potranno mai avere accesso al riconoscimento dello status di rifugiato. Ecco, queste le migrazioni ci aiutano a capire, la migrazioni è una lente per leggere queste dinamiche, ti ringrazio davvero tanto per il tuo intervento, per aver sottolineato questi aspetti. Adesso la parola, la parola, a Eliana Agusti che oltre a presiedere il corso di laurea in Governance Euro-Mediterranea per le politiche migratorie insegna anche colonialismo, migrazioni, ma anche storia del diritto e delle relazioni internazionali. Io a Eliana, alla professoressa Agusti, mi sento di doverla ringraziare anche più dei ringraziamenti che ho fatto agli altri, perché veramente Eliana ha dato un contributo fondamentale nell'organizzazione di questo incontro. Quindi la ringrazio davvero tanto e le cedo la parola per il suo intervento. Grazie, grazie Antonio e ben trovati. Sono io che devo ringraziare te Antonio perché ti sei fatto promotore di questa opportunità di confronto. Era importante non mancare l'appuntamento con la presentazione del dossier, ci tenevamo moltissimo, anche e soprattutto in questo momento, anche e soprattutto se le circostanze ci hanno costretto a un incontro solo virtuale, però abbiamo visto molto partecipato, a questo ci fa tantissimo piacere. Scusate, purtroppo la mia condizione è questa, quindi faccio fatica a escludere i rumori di fondo, ecco, diciamo così. Ben becca, ben becca questa cosa, ben becca. Chiedo scusa. Con IDOS, il nostro corso di laurea in governance, Euro-Mediterranea delle politiche migratorie, condivide una visione, cioè l'impegno scientifico, l'impegno scientifico al servizio del territorio, sia a livello locale, nazionale e delle sue comunità. Il corso di governance dall'anno della sua istituzione, ad oggi parliamo del 2018, ha voluto rinnovare quotidianamente l'indirizzo che è stato quello di chi ne ha fortemente promosso poi l'attivazione, mi riferisco agli amici e colleghi Luigi Nuzzo e Attilio Pisano. La formazione a servizio dell'impegno sociale, ecco, i nostri studenti, perdonate l'accento di vanto, sono bellissimi e questo non solo per ragioni estetiche, diciamo, perché la loro bellezza, la loro straordinarietà deriva dall'impegno quotidiano nell'associazionismo, nel volontariato e nella cooperazione internazionale. Ciascuno di loro ha voluto, ha scelto la crescita professionale, ha scelto di perfezionare il suo percorso formativo, ha scelto di affinare le sue sensibilità e competenze, ha scelto di farsi consapevole nel ruolo, nella missione, nella vocazione, nell'azione sociale. I nostri ragazzi, i ragazzi di governance, permettetemi di dirlo, mentre studiano, mentre seguono le lezioni, preparano gli esami, affiancano con strumenti diversi, perché è diversa la loro formazione accademica di base, i migranti, gli stranieri che quotidianamente vivono il dramma dello sradicamento, lo diceva prima Antonio, della lontananza dalla terra, dagli affetti, e allo stesso tempo combattono con i limiti e tutte le faraginosità di un sistema che di fatto è escludente. Loro vivono accanto agli stranieri la sfida dell'integrazione, come singoli in un paese straniero, che spesso, vale dirlo, non sarà quello di destinazione, ma che contribuirà a scrivere il loro destino. L'hanno fatto anche in questo anno appena trascorso, in questo 2020, e forse anche con più determinazione, perché più alta era la posta in gioco. Qualche giorno fa rileggevo un libro appena uscito di Agamben, Quando la casa brucia. Agamben scrive, tutto quello che faccio non ha senso se la casa brucia. Ecco, in quest'anno appena trascorso, in questo 2020, abbiamo visto la nostra casa, le nostre case andare in fiamme. La crisi pandemica, l'emergenza, le morti, il distanziamento, i conflitti, le divisioni sociali, la solitudine, e ancora i decreti sicurezza, i porti chiusi, non dimentichiamo tutta la retorica dell'odio. Eppure, mentre tutto bruciava, abbiamo potuto continuare a vivere, a pensare, a vedere meglio, tra le ceneri, quello che Agamben ne chiama il problema architettonico fondamentale, cioè quello che restava, quello che resta della cava in fiamme. Abbiamo imparato davanti ai numeri, alle cifre, a rimanere lucidi, senza compromessi, come mai prima d'ora. Ecco, il dossier che ci apprestiamo a conoscere ci restituirà un'istantanea del 2020, ci restituirà quelle cifre, quei numeri, l'immagine delle fiamme, la casa che brucia, ma quelle pagine di aritmetica politica ci metteranno anche nella condizione di ragionare con le cifre, con lucidità appunto su quello che abbiamo vissuto, lontani da facili strumentalizzazioni. Fare chiarezza sui numeri del fenomeno migratorio in Italia è fondamentale per chi fa il nostro mestiere e per la comunità tutta, senza mai dimenticare, questo vale sempre tenerla a mente tanto nell'indagine quanto nella ricostruzione, e nella diffusione anche di questi materiali, che quei dati, quelle cifre, quei numeri hanno volti, sono storie, sono vite. Ecco, se la casa brucia, noi dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima. Certo, non possiamo non vedere quello che le fiamme ci hanno restituito, cioè qualcosa è cambiato, è cambiato per sempre, ma non in quello che facciamo, è cambiato nel modo in cui ce lo lasciamo andare, diciamo, nel mondo. Ecco perché dobbiamo aggrapparci, non è retorica, con forza e speranza a questo 2021, a questo nuovo anno, perché vogliamo che sia l'anno della rinascita, del rilancio, della riconquista degli spazi del diritto e dei diritti umani in primis. Lo spazio della persona deve ritornare al centro. I principi dei nostri padri costituenti e i principi di solidarietà devono essere la sveglia per chi fa il nostro mestiere, per chi fa il mestiere del giurista, per gli operatori del sociale, per i professionisti della governance. In questo voto di slancio siamo tutti vicini, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, ora più che mai. Quindi, ritornando e chiudendo con Agamben, se la casa brucia, fare resta ancora, forse, anche più di prima una scelta di senso. Grazie. E perdonate ancora per il sottofondo. Grazie a te. Il sottofondo era meraviglioso, quindi non c'è nulla da farsi perdonare. Anzi, siamo noi che stiamo disturbando il piccolo. Adesso, nel frattempo, vedo che è riuscita a risolvere i problemi di connessione l'Avvocato Faggiano, che ci ha raggiunto, quindi potrà partecipare da adesso in poi all'evento. Grazie, ben arrivata. Ce l'abbiamo fatta. Io adesso vi do la parola ad Antonio Ricci, che finalmente ci presenterà i dati di quest'anno del dossier statistico in migrazione. Adesso possiamo anche dircelo, ormai siamo fra amici, noi abbiamo cercato di ritardare il più possibile questa presentazione, perché ci tenevamo troppo a farla in presenza. Perché è inutile nascondercelo, la dimensione relazionale è una dimensione fondamentale, anche quando si parla di questi temi. Il problema è che rischiavamo di presentare il nuovo dossier statistico del 2021, la trentunesima edizione, se non avessimo optato per questo. Quindi, davvero grazie ad Antonio Ricci, grazie al centro studi IDOS, che da trent'anni ci restituisce una fotografia aggiornata. Io, quando ho iniziato a studiare i processi migratori, ancora avevo i capelli, quindi parliamo veramente di secoli fa, e il dossier rappresentava un po' una Bibbia, perché quando si parlava di migrazione si parlava senza avere cognizione. Eppure invece, con tanto lavoro, il dossier ha incominciato a fare chiarezza e a raccontarci il fenomeno, nella sua normalità, ma anche nella sua eccezionalità. E quindi, anche quest'anno, riusciremo sicuramente a comprensare molte cose, perché i numeri sono... Dietro ogni numero c'è una storia, ce lo ricordava Eliana, c'è un nome, c'è un vissuto, ci sono delle famiglie, ci sono dei sogni. Però i numeri, in volte, ci aiutano anche a capire e a intelleggere la realtà, fuori dalle retoriche che ammantano il discorso pubblico, specie in Italia. Quindi, grazie Antonio per la tua partecipazione e ti cedo subito la parola. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto, i miei ringraziamenti all'Università di Lecce per tanta stata fatta insieme in passato e per quella che faremo ancora insieme per unire chiaramente quello che è lo studio, quello che sono i dati statistici, la conoscenza, alla operatività. Quindi, grazie a tutte le strutture presenti, perché ci confermano l'utilità di questo lavoro e grazie chiaramente al fatto che avete dimostrato una grande partecipazione facendo il tutto esaurito. Allora, per presentare il dossier io ricorrerò a un PowerPoint. Procedo con la condivisione, perché chiaramente ci sono tanti dati da presentare e abbiamo preparato delle slide che permetteranno di avere comunque una visione più facile. Si vede bene il PowerPoint? Antonio, mi dai tu una conferma? Sì, sì, si vede. Adesso l'ho messo in modalità di presentazione. Perfetto. Perfetto. Allora, iniziamo la presentazione. Innanzitutto il piano internazionale delle migrazioni. Si conferma una grande dinamicità, aumentano i migranti di anno in anno. Siamo arrivati a contare nel mondo 272 milioni in mobilità. Si diceva durante le presentazioni, le introduzioni, che però non sono solo le migrazioni internazionali quelle che comportano uno spostamento, un'esperienza migratoria, ma ci sono anche le mobilità interne. Quindi volendo considerare anche i migranti interni arriviamo a un mondo in cammino di un miliardo di persone. Però focalizziamoci sui migranti internazionali, quelli che rappresentano il popolo che supera le frontiere, varca le frontiere per andare a vivere in un altro paese. Di 272 milioni, ebbene, il 41% è rappresentato in realtà da persone che si sono mosse da un paese del sud del mondo per andare a vivere in un altro paese del sud del mondo. Quindi il primo luogo comune da sfatare senz'altro è quello che ci sia un'invasione, che la migrazione è tutta indirizzata verso i paesi ricchi, l'Europa o gli Stati Uniti. Certo, l'Europa si conferma come prima area di immigrazione con 89 milioni di migranti, però già la seconda per esempio è rappresentata dall'Asia con 77 milioni e quando andiamo a vedere da quali parti del mondo ci si muove il primo continente per emigrazione è senz'altro l'Asia, 108 milioni, ma l'Europa è la seconda. Quindi diciamo se qualcuno vuole considerare ancora i migranti degli invasori i primi invasori sono i cittadini europei perché sono 65 milioni che hanno cambiato la residenza per andare a vivere in un altro paese. Di 272 milioni di migranti internazionali i lavoratori, i migranti economici sono 164 milioni rappresentano una forza lavoro importantissima per il futuro dell'umanità perché grazie al loro lavoro e le rimesse che mandano la famiglia un miliardo di persone ha un reddito per sopravvivere. Quindi rappresentano un elemento di compensazione delle sperequazioni nella distribuzione internazionale delle risorse economiche e chiaramente questi lavoratori sono stati i grandi protagonisti di questa brutta stagione del covid-19 della pandemia perché grazie a loro abbiamo scoperto abbiamo avuto le risorse per affrontare le crisi. Si sono rivelati in gran parte dei lavoratori essenziali dall'agricoltura al settore sanitario e con il loro anche negazione e sacrificio in qualche maniera stiamo piano piano affrontando la crisi del covid. Però le migrazioni non sono solo quelle per motivi di lavoro purtroppo una forte componente una grossa fetta è legata alle migrazioni forzate e il professor De Luca e altri avete accennato chiaramente al discorso dei rifugiati dei richiedenti esilo è un fenomeno che conosce nel corso degli ultimi anni un andamento di crescita particolarmente preoccupante il loro numero complessivo oggi è di circa 80 milioni di persone e pensate che solo dieci anni fa erano 40 milioni quindi sono bastati due lustri per raddoppiarne il numero e forzato significa diciamo aver dovuto lasciare la propria casa la propria vita per andare a vivere in un altro posto in condizioni di assenza di prospettive del futuro di protezione come status legale di capacità autonoma economica di sopravvivere di mantenere la famiglia e questo fenomeno chiaramente è altro luogo comune i migranti forzati non riescono ad arrivare nel nord del mondo o comunque non si dirigono verso il nord del mondo perché l'85% in realtà si è spostato da un paese del sud del mondo in un altro paese del sud del mondo andando a vedere la scansione di questo macro gruppo di 80 milioni di persone di questi 45 milioni sono sfollati interni gli sfollati interni sono diciamo un prodromo sono dei futuri rifugiati sono delle persone che perseguitate delle persone che non hanno che hanno dovuto abbandonare la propria casa e che però per le quali non è stato possibile superare la frontiera la frontiera quindi cercare protezione in un altro paese quindi in una condizione di non persecuzione e sono 45 milioni segue il gruppo di rifugiati richiedenti asilo che sono complessivamente 30 milioni di questi 20 milioni sono persone che hanno già ottenuto lo status di protezione internazionale il famoso status ex convenzione di Ginevra 4 milioni e 200 mila sono richiedenti asilo quindi la loro domanda in attesa di riconoscimento e pensate 5,6 milioni sono seconde terze generazioni dei rifugiati palestinesi del 49 quindi pensate in molti di questi casi le migrazioni forzate sono situazioni non solo complesse ma protatte da lunghissimi periodi guardate già solo se pensate alla crisi in Siria che ha prodotto 10 milioni di migranti forzati dovete pensare 7 milioni di migranti forzati dovete pensare che questa situazione ormai è protatta già da 10 anni quindi senza avere un barlume o una possibilità di una diversa soluzione nel futuro crisi attuale è quella del Venezuela sono 3 milioni e 600 mila i venezuelani che hanno lasciato il polio paese sono considerati degli sfollati sono all'estero ma non hanno ottenuto la possibilità né di chiedere asilo né di ottenere una protezione quindi sono in una situazione ancora più vulnerabile dei più vulnerabili di questi migranti forzati il 40 milioni il 40% quindi circa 35 milioni sono in realtà minori quindi hanno meno di 18 anni sono o a carico della famiglia o alcuni di questi anche minori non accompagnati eppure in un mondo dove la casa brucia come è stato detto bene in un mondo dove purtroppo le migrazioni forzate le cause forzate sono sempre più crescenti tanto da aver comportato il raddoppio del numero di migranti forzati nel mondo dall'altra parte c'è chi chiude le porte c'è chi chiude i porti e c'è chi in qualche maniera respinge verso la casa che brucia questa è la politica un po' dell'Europa la politica della costruzione dei muri la politica dei pushback ma anche la politica dell'esternalizzazione delle politiche di accoglienza direttamente nei paesi terzi molti dei quali estremamente problematici il caso della Turchia chiaramente con cui l'Unione Europea è caduta in accordo nel 2016 ma si può anche citare gli accordi italolibici del 2017 come delle situazioni dove veramente ci ritroviamo a vivere e in qualche maniera a vallare con gli accordi internazionali una continua perseguimento di violare il principio di non respingimento quindi una continua strategia di venire meno agli accordi internazionali della Convenzione di Ginevra e qual è il risultato? Il risultato chiaramente è che le cause di partenza rimangono le stesse le porte sono chiuse e chi non ce la fa sono le persone che vanno incontro a un nafragio nel Mediterraneo sono stati 1885 nel corso del 2019 le persone che hanno perso la vita nel tentativo di migrare e praticamente se andiamo a vedere l'incidenza rispetto a quelli che ci sono riusciti una persona su 20 perde la vita nel tentativo di raggiungere un paese dove possa essere protetto avete qui il breakdown per rotte verso l'Europa la rotta principale è quella centrale che vede Italia e Malta come destinazioni dove le persone che hanno perso la vita sono state oltre 1262 e chiaramente questo chiudere le porte trova questo anche esternalizzare le politiche trova il suo specchio riflesso nel fatto che non solo gli attraversamenti sono crollati pensate nel 2015 erano 1.800.000 e oggi nel 2019 141.000 quindi in 4 anni c'è stata una diminuzione di 10 volte di 12 volte il numero complessivo nello stesso questo chiudere le porte questo respingere verso il fuoco chiaramente trova lo specchio riflesso nel numero dei richiedenti asilo nello stesso periodo passati da 1.300.000 a 745.000 quindi di fatto dimezzato il numero non perché sono venute meno le cause delle migrazioni forzate non perché siano diminuite le crisi internazionali semplicemente perché le porte sono state lasciate lasciate chiusi quindi è un'Europa che in qualche maniera dà una risposta di paura rispetto a quello che per tanti anni invece è stata una caratteristica positiva di questa nostra casa comune europea cioè l'apertura all'accoglienza di chi è perseguitato e come si colloca l'Italia in questo contesto innanzitutto la presenza straniera in Italia è da alcuni anni in un trend di stabilità gli aumenti sono molto contenuti nel 2015 gli immigrati in Italia gli stranieri in Italia erano 5 milioni e 26 mila nel 2019 sono diventati 5 milioni 306 mila 548 rispetto all'anno precedente è un aumento davvero minimale circa 50 mila persone c'è una grande stazionarietà della presenza e questo in qualche maniera testimonia forse un cambiamento delle tendenze migratorie rispetto al nostro paese noi viviamo in una sindrome di invasione alimentata dal dibattito politico mentre il numero degli immigrati rimane stabile anzi il numero dei soggiornati non comunitari quelli che per venire hanno bisogno del visto del permesso di soggiorno è diminuito di 300 mila unità nel corso di 5 anni quindi di fatto siamo sempre meno attrattivi nonostante ciò abbiamo sempre più paura chiaramente nelle migrazioni sta anche cambiando in qualche maniera il volto del migrante se negli anni 90 il primo driver per emigrare in Italia era il lavoro oggigiorno in realtà diventano sempre più complesse le motivazioni e quindi da questo punto di vista uno dei trend emergenti è il crescente numero di richieste di protezione internazionale 43.783 nell'ultimo anno complessivamente richiedenti esilo e migranti che hanno ottenuto una protezione internazionale o una protezione sussidiare in Italia sono 220.000 i dati del 2019 chiaramente vedono un numero di richiedenti esilo molto alto i quali hanno ottenuto una risposta negativa è molto legato ai decreti Salvini questa all'abolizione della protezione umanitaria quasi integrale ma è molto legato anche di fatto a un primo grado di esame molto spesso problematico perché sappiamo che dal numero delle persone ricorrenti dopo un diniego della domanda d'asilo che in secondo grado l'incidenza di persone che comunque riescono a ottenere una forma di protezione è molto alta quindi ci troviamo di fronte a un sistema che a volte dà delle risposte che probabilmente sono o troppo rapide incapaci di ascoltare il richiedente asilo o troppo diciamo superficiali e da questo punto di vista rispetto alla media dell'Unione Europea le domande esaminate anche di fatto c'è una grossa diversificazione se in Italia le richieste accolte sono il 32% in Europa si passa dall'8% dell'Ungheria pensate 8% al 66% della Spagna eppure in qualche maniera dovremmo nel sistema europeo dell'Unione Europea vivere in un sistema integrato con delle politiche comuni anche per quello che riguarda chiaramente la capacità di esaminare le domande d'asilo qual è la distribuzione sul territorio dei migranti in Italia chiaramente la presenza nel sud Italia è in crescita però si mantiene comunque per quote ridotte rispetto al nord dell'Italia quindi nel sud Italia sono il 12% dei migranti arrivati in Italia che vivono in Italia mentre in Lombardia per esempio nel nord ovest vivono il 33,8% la prima regione è la Lombardia che da sola con 1.200.000 stranieri accoglie il 22% della presenza totale segue la mia regione io sono di Roma segue il Lazio e in particolare tra le province è proprio la provincia di Roma la città metropolitana di Roma a essere la prima provincia accogliendo 555.000 stranieri a livello regionale appunto prima la Lombardia secondo il Lazio seguono Emilia Romagna Veneto Piemonte qual è la posizione ingratatoria della Puglia quanti stranieri accoglie la Puglia ecco la Puglia è la decima regione in Italia con 140.564 cittadini stranieri di fatto è la seconda regione del sud Italia preceduta solo dalla dalla campagna l'altro aspetto diciamo che della fotografia sono arrivati in queste regioni provengono da tante parti del mondo però di fatto l'Italia è un paese che riesce ad attrarre soprattutto migranti europei quindi un immigrato su due in realtà è un cittadino che proviene da un paese europeo e tra i paesi europei sono proprio quelli comunitari che possono in qualche maniera essere favoriti dalla libera circolazione e quelli che sono i maggiori protagonisti dei flussi migratori la prima comunità in Italia infatti sono i romeni che con 1.207.000 rappresentano quasi il 23% degli stranieri tuttavia in Italia come avete visto dai dati di Lecce del comune di Lecce è rappresentato l'intero Atlante di Agostini quindi ci sono migranti che vengono da tutte le parti del mondo quindi dopo la Romania abbiamo l'Albania il Marocco la Cina l'Ucraina e così via e non solo sono 5.300.000 però molti nel corso degli anni riescono a ottenere la cittadinanza italiana e qui vedete le linee di tendenza dal 2013 al 2019 erano 100.000 i nuovi cittadini nel 2013 e nel 2019 sono 127.000 in mezzo c'è stata un'onda che ha conciso con nel 2015 e nel 2016 in cui si è riuscito a toccare oltre 200.000 nuovi cittadini all'anno eppure questi numeri sono grandi ma non rispecchiano in realtà quelli che si sentono cittadini italiani veramente perché la legge sulla cittadinanza italiana è una legge vecchia di 30 anni è una legge pensata soprattutto per favorire la riacquisizione della cittadinanza italiana delle nostre passate migrazioni avete sentito i dati di lecce quanti sono gli oriundi brasiliani di origine italiana che hanno riacquisito la cittadinanza ed è poco attenta in realtà diciamo a dare la cittadinanza italiana a chi in realtà partecipa nella nostra società vivendoci lavorandoci contribuendo in qualche maniera al futuro da tanti anni non solo dando un futuro anche diciamo con la famiglia perché quando andiamo a vedere quanti sono i nuovi nati in Italia siamo arrivati purtroppo al numero più basso degli ultimi 100 anni di questi una fetta importante il 15% sono bambini nati da famiglie straniere e quindi sono bambini che condannati a rimanere stranieri fino al compimento dei 18 anni per effetto dell'attuale previsione sulla legge della cittadinanza per l'acquisizione e diciamo i nuovi nati stranieri comunque poco servono chiaramente a a contribuire a quello che è il declino demografico del nostro paese anzi bisogna dire anche tra le famiglie straniere ormai si è acquisito un modello di crescita demografica al di sotto del tasso di sostituzione e quindi diciamo anche chi paventava in qualche maniera una sostituzione tra virgolette etnica siamo ben lontani da questo chiaramente anzi nello stesso tempo il fenomeno migratorio che riguarda l'Italia è estremamente complesso specchio riflesso dei flussi in arrivo è il fatto che l'Italia rimane ancora oggi un crocevia migratorio un crocevia non solo di arrivi da 200 paesi del mondo ma un crocevia anche di partenze gli italiani nel mondo sono 5 milioni e mezzo e i flussi annuali continuano a essere molto forti quindi secondo i dati AIRE sono stati 130 mila gli italiani che nel corso dell'ultimo anno sono andati a vivere all'estero questo dato è terribilmente sottostimato perché già solo se andiamo a prendere gli archivi della Germania della Spagna del Regno Unito e della Francia per vedere quanti sono gli italiani che si sono trasferiti nel corso del 2019 avremmo un dato molto più alto quindi il dato ufficiale è 130 mila probabilmente il numero vero è un numero che va moltiplicato di due o tre volte per capire quanti sono gli italiani che vanno via altro aspetto che riguarda l'immigrazione è la partecipazione economica i cittadini stranieri sono nel mercato del lavoro sono 2 milioni e mezzo sono arrivati a rappresentare l'11% degli occupati e il 15% dei disoccupati vivono una situazione paradossale sono quelli che da una parte vedono nel crescere il numero degli occupati in anno e anno e nello stesso tempo sono quelli che vedono crescere simultaneamente il numero dei disoccupati perché avviene questo perché da una parte sono una delle leve più dinamiche del mercato del lavoro più disponibili a andare incontro alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro italiano dall'altra parte sono i primi che spesso sono a perdere il lavoro sono quelli che fanno i lavori temporanei a breve termine quindi sono quelli che più facilmente rischiano di cadere nel numero dei disoccupati il mercato del lavoro in qualche maniera è un mercato del lavoro che rispetto ai cittadini stranieri l'ingabbia l'ingabbia in un mercato del lavoro che è segmentato e l'ingabbia molto spesso nei segmenti più bassi quando andiamo a vedere che tipo di lavoro la tipologia professionale che viene svolta in un caso su tre per i cittadini stranieri si tratta di un lavoro non qualificato nel 30% di un lavoro da operaio o da artigiano e nel 30% da impiegato solo nel 7% è un lavoro qualificato e questo molto spesso è davvero un cortocircuito perché se andiamo a vedere quanti sono di loro che fanno un lavoro che comporta una condizione di spreco di talento cioè di sovraistruzione rispetto al lavoro svolto tra i cittadini stranieri uno su tre il 33% in realtà avrebbe un titolo di studio maggiore quindi magari è laureato ma è costretto a svolgere un lavoro non qualificato si vive quindi una condizione di canalizzazione e questa canalizzazione vede alcuni settori assumere sempre più una connotazione che potremmo definire etnica e questo è il caso del lavoro domestico dove quasi il 70% degli addetti è straniero e questo è il caso anche dell'agricoltura dove arriviamo al 18% delle costruzioni anche qui quasi il 18% insomma in qualche maniera si tratta di un mercato del lavoro che conosce dei processi di canalizzazione e questo noi lo vediamo anche andando a vedere dai settori se passiamo ai comparti o se andiamo direttamente proprio ai singoli prodotti il 90% degli addetti alla produzione del parmigiano reggiano sono cittadini indiani per farvi un esempio insomma quindi di fatto sempre più diventano importanti per alcuni settori ma questi settori rischiano di essere delle gabbie delle gabbie che costringono molto spesso delle situazioni di spreco di talenti e uno dei pochi ascensori di mobilità per quello che riguarda il mercato del lavoro molto spesso è fare impresa è fare impresa quindi le imprese dei cittadini immigrati sono in crescita e rappresentano il 10% delle imprese complessive sono 615.000 e è un mondo molto complesso di tanti settori è molto importante chiaramente il commercio l'edilizia però è un mondo dove in qualche maniera chi ha una qualifica del cittadino stagnero più facilmente può trovare una possibilità di vedere con le proprie risorse il proprio talento una via di successo in questo grande contesto di 615.000 imprese però dovete considerare che alcune comunque sono anche para imprese e sono delle forme in realtà di imprese unipersonali che vanno a prendere diciamo rapporti di lavoro in subappalto quindi non sono vere e proprie imprese quindi è un settore dinamico vivace anche per i tanti comparti che va a riguardare ma dove non mancano chiaramente le vulnerabilità ultimo dato che andiamo a presentare è quanto contribuiscono al reddito alle casse pubbliche o alla vita economica del paese ecco i cittadini stagneri guadagnano un reddito pro capite che è la metà dei cittadini italiani questo non è solo frutto di discriminazione o di lavoro nero è frutto anche di una precarietà dei rapporti lavorativi o di condizioni di lavoro che in qualche maniera tolgono al reddito per esempio quella che è la diciamo la possibilità di avere un alloggio presso il datore di lavoro però questo non toglie che appunto si tratta di un 10% degli occupati con però delle condizioni di reddito pro capite che comunque sono la metà rispetto alla media dei cittadini italiani e nello stesso tempo però sono quelli che con il loro lavoro pagando le tasse e quindi per esempio le tasse sullo stipendio danno un grandissimo contributo a quelle che sono le casse pubbliche offrendo 4,7 miliardi di imposte pagate quindi pensate che rappresentano il 50% delle imposte pagate degli italiani domanda forse perché gli italiani sono più evasori non si sa quindi vi lasciamo con questo dubbio ultima slide è l'impatto del covid il dossier è stato scritto è stato pubblicato alcuni mesi fa eravamo ancora all'inizio del covid non c'erano indicatori per capire però è evidente che nonostante che i lavoratori migranti siano stati i key workers che ci hanno permesso durante il lockdown della pandemia di avere i prodotti alimentari disponibili che hanno permesso ai nostri supermercati di rimanere aperti che hanno permesso alla logistica di permettere alle merci di essere trasportati nonostante il contributo enorme nel settore sanitario quindi i tanti infermieri stagneri sono quelli che vivono le maggiori condizioni di vulnerabilità la crisi economica post covid porterà chiaramente a una nuova contrazione della forza lavoro e sono già molti cittadini stagneri che stanno perdendo il posto di lavoro l'impoverimento chiaramente è conseguenziale rispetto alla perdita del posto di lavoro e si rispecchia anche su quelle che sono le proiezioni future dell'invio delle rimesse abbiamo detto un miliardo di persone vive grazie al fatto che 164 milioni sono i lavoratori che permettono di condividere i loro risparmi con le famiglie si prevede nel giro di un anno un crollo del 20% di queste rimesse quindi sarà una contingenza durissima per tutti ma ancora di più per i paesi di partenza la chiusura dello spazio Schengen i rientri di mazza in qualche maniera hanno privato il nostro paese dei lavoratori stagionali creando tantissimi problemi problemi per i paesi che hanno bisogno di questa mano d'opera problemi per i lavoratori stagionali che non hanno potuto garantire questa entrata alla famiglia peggiorano anche le condizioni sanitarie sanitarie non solo per chi vive in condizioni abitative di sovraffollamento ma anche per chi vive addirittura nei ghetti legati purtroppo a dei cicli economici connessi al mercato nero al lavoro nero e così pure nei luoghi di detenzione non ultimo il razzismo i migranti sono stati dei lavoratori chiave per durante la crisi del covid durante la pandemia sono stati i primi a essere criminalizzati in qualche maniera vissuti come dei giuntori all'inizio della pandemia su questo proprio le Nazioni Unite hanno lanciato un monito dicendo non facciamo che la pandemia sia uno tsunami d'odio verso i migranti e quindi un'altra conseguenza che già possiamo cominciare a monitorare è anche questa cioè l'aumento del razzismo con questo vi ringrazio sono tante le strutture che hanno collaborato al dossier l'Università di Lecce con il professor Cigniero che redige da tanti anni il capitolo nella regione Puglia in particolare la CGL Pugliese che ci aiuta nella distribuzione delle copie nella sensibilizzazione con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie per la tua presentazione per la capacità che hai avuto anche in così poco tempo di riuscire a sintetizzare gli aspetti salienti del dossier veramente grazie per questa fotografia che ci hai restituito con Antonio io mi sono accorto di aver dimenticato di dire una cosa importante che abbiamo comunque scritto e fatto circolare durante questa presentazione chi vuole può scaricare gratuitamente il pdf del dossier statistico in migrazione andando sul sito www.dossiastatisticoimmigrazione.it si potrà scaricare inoltre presso la portineria del dipartimento di scienze giuridiche che si trova nell'ecotecne nella struttura R1 sarà possibile fino all'esaurimento copie ritirare alcune copie cartacee che sono state gentilmente recapitate dal centro studi idos le cose si possono ritirare dal lunedì al venerdì dalle 9 del mattino fino alle 12 quindi chi volesse prendere una copia cartacea può andare presso la portineria del dipartimento di scienze giuridiche nella struttura R1 nell'ecotecne io proverò ma veramente ruberò pochissimi minuti perché volevo dare qualche dato prima di passare la parola per gli interventi di commento volevo un pochettino contestualizzare ma veramente velocemente perché l'intervento di Antonio è stato più che esaustivo la situazione pugliese perché poi in qualche modo la situazione pugliese è un po' lo specchio rispetto a quella nazionale naturalmente abbiamo dei dati sensibilmente inferiore iniziare appunto dal numero delle presenze lo ricordava Antonio la Puglia è la seconda regione a livello delle regioni del taglio meridionale per numero di cittadini stranieri ma le presenze sul nostro territorio sono ormai delle presenze stabili sono presenze stabili da anni e vedremo che ci sono tutta una serie di indicatori che ci ricorda questa stabilità un dato interessante è che tra il 2018 e il 2019 la popolazione pugliese è cresciuta di poco ma la crescita è stata dovuta soprattutto ai nuovi dati quindi questo è un dato che sicuramente ci fa ben sperare e che ci racconta anche qualcosa del territorio le presenze straniere 140.000 rappresentano a malapena il 3% della popolazione regionale pugliese siamo quindi molto lontani da quella che è la media e la media nazionale la distribuzione sul territorio un po' come avviene con la distribuzione nazionale segue un po' quelle che sono le aree di maggiore richiamo anche economico e di attrattività economica non è casuale che sia Bari la prima provincia per numero di presenze dei cittadini stranieri un altro indicatore che ci ricorda che i processi migratori sul territorio le presenze straniere sono ormai delle presenze stabili e il fatto che c'è un sostanziale equilibrio di genere questo ci fa capire che sul territorio sono presenti soprattutto famiglie rispetto alle provenienze geografiche anche qui non mi dilungo abbiamo un po' la storia delle migrazioni la possiamo vedere all'interno di quelle che sono per esempio le prime nazionalità per numero di presenze quindi ritroviamo la Romania la migrazione in Puglia cittadini stranieri vengono soprattutto dal continente europeo la metà dei cittadini stranieri provengono dal continente europeo questo è importante ricordarci rispetto a quelle che sono i racconti pubblici sulla migrazione come vedete le prime comunità per numero di presenze troviamo tra le prime comunità cittadini albanesi marocchini e senegalesi che sono le prime migrazioni che arrivano sul territorio i cittadini marocchini arrivano già dalla fine degli anni 60 l'allora osservatore provinciale sulle immigrazioni di Lecce censisce l'arrivo di un primo cittadino straniero marocchino sul territorio nel 1967 quindi a proposito quando noi parliamo dei 5 milioni di immigrati in Italia a volte forse anche improprio utilizzare questo termine nel senso che in quei 5 milioni di persone ci sono persone che sono presenti sul territorio da moltissimo tempo e che noi continuiamo a considerare migranti nonostante di fatto siano dei cittadini del territorio anche i dati sul permesso di soggiorno ci parlano di processi di stabilizzazione non è casuale che la prima motivazione di rilascio di permesso di soggiorno siano i permessi di soggiorno per motivazioni di ricongiungimento familiare quindi questo ci aiuta a capire che stiamo parlando di migrazioni stabili anche rispetto al contingente dei cittadini non comunitari e così come avviene a livello nazionale anche in Puglia noi registriamo una leggera flessione del numero dei cittadini non comunitari questo in realtà è un dato che va interpretato perché non significa che diminuiscono sic e semplici i cittadini non comunitari presenti sul territorio ma come anche il dossier statistico mette in luce in realtà dietro questa diminuzione ci sono alcuni effetti di quello che era conosciuto come il decreto sicurezza che ricordiamo ha abolito il permesso di soggiorno per motivazioni umanitarie quindi si è venuto a creare una situazione per la quale soggetti che erano in possesso del permesso di soggiorno per motivazioni umanitari allo scadere non potendo rinnovare sono ricaduti nell'area dell'irregolarità e questo ci aiuta anche a riflettere su quando possono essere gli effetti di politiche securitari di politiche improntate sulla chiusura noi veniamo da anni di propaganda che ci diceva che bisognava ridurre l'irregolarità bisognava ridurre la clandestinità ebbene i primi effetti di queste politiche di chiusura da un lato è l'aumento dell'irregolarità e dall'altro sono i dati drammatici che ci ha presentato Antonio rispetto alle morti nel Mediterraneo perché non ci dobbiamo dimenticare che quelle morti non sono affatto casuali nel corso degli anni è diminuito il numero delle persone che arriva via mare ma è aumentata la probabilità di morire durante il viaggio e questo non è casuale questo non è accettabile perché in mare si muore perché la rotta del Mediterraneo è la rotta più pericolosa al mondo di tutte le rotte migratorie la rotta del Mediterraneo centrale è quella che registra il maggior numero di morti e noi sappiamo che il maggior numero di morti si innalza proprio quando non sono permessi canali di ingresso regolare quando diminuiscono le operazioni di pattugliamento del Mediterraneo che impediscono che la gente muoia durante il tragitto e quindi su questo ci sarebbe anche molto da dire perché la guerra alle ONG che sono passati da essere considerati gli angeli del mare addirittura a essere definiti taxisti del mare è una guerra che è stata iniziata parecchio tempo fa e quindi questo ce lo dobbiamo ricordare quando parliamo di effetti di ricaduta delle politiche migratorie il dato sull'acquisizione di cittadinanza questo è un dato che è spesso altalenante risente rispetto agli anni nel 2019 in realtà è aumentato il numero di persone che hanno potuto avere accesso alla cittadinanza italiana e quindi anche questo se noi andiamo a vedere la prima città pugliese per numero di riconoscimento di cittadinanza italiana è Bari che non è casualmente quella che registra anche il maggior numero di cittadini stranieri altro dato che ci parla della stabilizzazione e che in qualche modo si ricollega anche un po' alla questione della cittadinanza ma soprattutto per quello che ci ricordava Antonio il fatto che noi abbiamo una legge della cittadinanza che è del 1992 quindi una legge piuttosto arretrata rispetto a quella che è stata la modificazione del territorio sul territorio beh se noi andiamo a vedere nelle scuole della Puglia insomma quella che è il nostro futuro sostanzialmente ci accorgiamo che già la presenza di quelli che consideriamo cittadini stranieri perché non hanno la cittadinanza italiana è una presenza che inizia a essere significativa e poco meno della metà di coloro i quali sono considerati stranieri che frequentano le scuole mi perdonerete ma io ho difficoltà a definire un bambino straniero nato e cresciuto su questo territorio o bene poco meno della metà dei bambini che sono presenti nelle nostre scuole che sono nati dai cittadini stranieri sono nati sul territorio e se andiamo a vedere nelle scuole a partire dalle scuole dell'infanzia e poi a proseguire per le scuole elementari il numero dei bambini che sono nati in Italia aumenta chiaramente in maniera inversamente proporzionale al grado di scuola frequentata i dati sul lavoro anche qui in Puglia in qualche modo si ritrovano i dati che ci ha presentato Antonio anche qui abbiamo che quasi la metà delle persone impiegata svolge un lavoro non qualificato e anche il dato sui sottooccupati sui sovrastruiti credo che sia particolarmente significativo perché in Puglia fra i cittadini stranieri occupati abbiamo che il 27% risultano essere sovrastruite nel 3-2,100 per caso risultano essere sottooccupati e se noi andiamo a confrontare questo dato con gli italiani ci accorgiamo che sostanzialmente è un dato in linea quindi questo ci racconta ancora una volta che in qualche modo la migrazione probabilmente diventa uno specchio e ci mette in luce ci parla di qualcosa che ha a che vedere anche con quella che ha la capacità del sistema economico e produttivo di assorbire talenti di assorbire lavoratori e di riconoscere il proprio capitale umano aggiungo solo una cosa che riguarda i cittadini stranieri non ce lo dimentichiamo probabilmente il dato dei sovrastruiti è anche più alto di quello che si registra ma per un semplice motivo in Italia i titoli di studio conseguiti dai cittadini stranieri all'estero non sono riconosciuti quindi in molti casi noi consideriamo soggetti non alfabetizzati soggetti che sono in realtà in possesso di diplomi di lauree in possesso di ingegneri sono medici nei propri paesi e qui in Italia non gli viene riconosciuto il titolo di studio ma questo è un altro discorso che ci porterebbe a riflettere su quanto il nostro apparato anche normativo è piuttosto in ritardo rispetto a quelle che sono le dinamiche sociali che stiamo vivendo anche qui in Puglia il lavoro autonomo l'imprenditoria è sicuramente una risposta come ci ricordava Antonio a questo mercato del lavoro segmentato che se ne impedisce l'accesso sottolineiamo Antonio quindi non ci ritorno su come però interpretare questo dato su quanto sia realmente lavoro autonomo perché noi lo troviamo soprattutto anche fra gli edili quindi molto spesso è lavoro para autonomo ma è un dato interessante quello sull'imprenditoria perché ci dice anche qualcosa rispetto a quella che è la storia migratore del nostro territorio perché se noi andiamo a vedere perché i dati che vengono rilevati sul lavoro autonomo non rilevano la cittadinanza del titolare dell'impresa ma rilevano il paese di nascita del titolare dell'impresa ebbene se noi andiamo a vedere qual è il paese di nascita dei primi per numero diciamo di coloro i quali fanno maggiormente il lavoro autonomo ci accorgiamo che insieme a marocchini senegalesi troviamo per esempio anche tedeschi troviamo per esempio anche svizzeri o anche persone del belgio questo non significa che sono tedeschi che vengono a investire ad aprire attività produttiva autonoma in Puglia ma probabilmente sono i figli degli emigranti pugliesi che sono stati appunto emigranti in quelle terre negli anni 60 e negli anni 70 rispetto a questo lo voglio ricordare per quanto riguarda la Puglia alle persone presenti nel sistema di accoglienza pugliese abbiamo un dato in contrattendenza rispetto al dato nazionale perché se in Italia la maggior parte delle persone che sono presenti all'interno del sistema di accoglienza si trova all'interno del cosiddetto sistema straordinario di accoglienza di un'accoglienza e quindi poi ci dovrebbero spiegare perché sarebbe straordinario se l'ordinario di fatto si trova lì qui invece in Puglia abbiamo che ci sono più persone presenti all'interno dei sistemi di seconda accoglienza quindi questo è sicuramente un dato che comunque ha una sua positività l'ultimo dato che presento e poi veramente chiudo e passiamo agli commenti agli interventi di commento è un dato che riguarda i processi di regolarizzazione che hanno riguardato la nostra regione come immagino abbia eseguito durante quest'estate è stata fatta l'ennesima regolarizzazione in questo paese la regolarizzazione in questo paese noi conosciamo delle regolarizzazioni che avvengono ogni tott'anni e in qualche modo anche questo il fatto che abbiamo bisogno delle regolarizzazioni ci dicono che c'è qualcosa che non funziona nelle nostre leggi perché significa che si crea irregolarità sul territorio e diceva prima Antonio aumentano le domande di richiesta di asilo è anche vero che negli ultimi anni di fatto non vengono più emanati decreti flussi o quando vengono emanati hanno cifre risorie quindi l'irregolarità sul territorio che è stimata in una forbice che va da 400.000 a 600.000 cittadini stranieri presenti regolarmente si è tentata di risolverla quest'estate con una regolarizzazione che purtroppo invece non ha avuto gli effetti desiderati gli effetti sperati io ho perso il conto del numero degli appelli che sono stati lanciati per cercare di modificare i criteri con i quali si accedeva a questa regolarizzazione che sono caduti nel luogo e sostanzialmente una regolarizzazione che era nata per sanare coloro i quali dovevano lavorare in agricoltura in realtà ci ha rimandato una fotografia ben diversa a livello nazionale sono state presentate circa 200.000 domande quindi molto al di sotto di circa 600.000 persone presenti regolarmente sul territorio che sono diventate irregolari a causa di una legislazione inadeguata ma la maggior parte di queste domande tanto a livello nazionale quanto a livello a livello pugliese sono state presentate non per il lavoro subordinato in agricoltura come si pensava ma sono state presentate per il lavoro domestico in particolare per il lavoro di assistenza e cura quindi i pericolosi clandestini di cui spesso la propaganda mediatica ci parla non sono altre che le persone che quotidianamente vivono nelle famiglie e che aiutano il sistema di welfare italiano perché questa regolarizzazione non funziona sono tanti i motivi forse uno dei motivi per cui non funziona è anche perché si è letto anche un po' poco i vecchi dossier statisti sull'immigrazione perché bastava il dato sulla ripartizione delle presenze migranti sul territorio per accorgersi che per esempio la maggior parte della popolazione straniera è concentrata nelle città metropolitane e noi sappiamo che i settori che occupano maggiormente i cittadini stranieri sono per esempio quelli legati anche alla logistica che era totalmente esclusa dai settori per i quali i soggetti si potevano regolarizzare e quindi questo ci ha rimandato questa fotografia questi sono i dati che vedete per la Puglia sono state presentate a malapena 11.000 domande di regolarizzazione che ci aiutano a capire quanto è necessario conoscere i fenomeni anche per poter operare quindi io chiudo questo questa brevissima inquadrazione per dare delle coordinate a livello territoriale quindi puoi lasciare la parola ai interventi di commento proprio facendo presente che ormai sul territorio abbiamo dei processi di stabilizzazione e questo il dossier statistico in migrazione ce lo ricordo ormai da diversi anni la migrazione è un fenomeno strutturale fa parte ormai in maniera strutturale della società italiana sebbene venga approcciata ancora in maniera emergenziale ancora si parla di emergenza si parla di eccezionalità ma non c'è nulla di emergenziale e di eccezionale se non una gestione emergenziale ed eccezionale e di fatto questi dati ci dicono che oramai la Puglia ma come l'Italia è una società policulturale ce lo ricordava Silvia Miglietta l'assessore nel suo intervento ce l'ha ricordato Antonio abbiamo il mondo in casa sostanzialmente abbiamo una ricchezza straordinaria ma questo è uno stato di fatto quello che manca ancora ahimè e siamo in ritardo è la costruzione di una società interculturale e per costruire una società interculturale abbiamo bisogno che ognuna faccia il suo dovere che lo facciano le istituzioni che si attrezzi che ci siano degli strumenti anche legislativi che possono riconoscere l'importanza dell'interculturalità ma c'è bisogno che anche ognuno di noi si impegni quotidianamente nel dialogo con l'alterità che non significa dialogare solo con i cittadini stranieri ma dialogare e abituarsi a il confronto con l'altro il confronto dialogico chiudo questo brevissimo inquadramento territoriale del fenomeno e cederei subito la parola seguendo l'ordine degli interventi ad ASMI della CGL per il suo intervento di commento chiederei la cortesia di cercare di contenere gli interventi in circa 6-7 minuti di non andare oltre in maniera tale che poi vediamo se riusciamo anche a prendere qualche sollecitazione tra i partecipanti prego ASMI sì farò farò del tutto buonasera buonasera a tutti saluto tutti per questa bellissima iniziativa ringrazio innanzitutto Antonio l'amico il professor Antonio Sceniero per l'invito e ci tengo a precisare da subito che anche se l'ha detto Antonio che la CGL di Buglia collabora e sostiene questo importante lavoro in maniera molto convinta perché comunque ci dà la possibilità almeno una volta all'anno di soffermarci e discutere di immigrazione con connessione di cause partendo dai dati da un'autografia istantanea di come cambia il fenomeno dell'immigrazione in Italia nella nostra regione e offre al territorio uno strumento di analisi molto efficace e importante se mi ricordo il professor Mariano Lungo parlava perché in qualche modo l'immigrazione viene vista come un problema è vero che continua ad essere vista come un problema e non è una questione solamente culturale e dei pregiudizi ma è una questione giuridica perché la legge che regola l'immigrazione continua a guardare l'immigrazione come un problema di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato è come una questione transitoria negando l'evidenza dei fatti e numeri la stabilità che è il fenomeno oramai un fenomeno strutturale e irreversibile basta pensare che circa 5 milioni e 300 mila gli stranieri che soggiornano lavorano vivono regolarmente in questo paese un milione e mezzo circa e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana quindi non sono tra questi e tra gli immigrati che continuano ad avere il permesso di soggiorno diciamo che sono presenti come stranieri ma sono cittadini italiani cosa cosa manca nella legge manca una visione di prospettiva cioè per questo non si fa abbastanza per le politiche di integrazione e questo la dice lunga anche sulla situazione attuale che sta attraversando il paese guardate che nel mese di ottobre del 2020 secondo uno studio dell'Ocse che diceva afferma che la crisi prodotta dal covid potrebbe avere pesanti effetti sui migranti e le loro famiglie in termini di salute lavoro educazione formazione linguistica ed altre misure di integrazione così e questo è importantissimo così come potrebbe produrre effetti negativi nell'opinione pubblica è un'affermazione abbastanza vericolosa e io immagino il scenario dopo la pandemia quindi quando ci accorgiamo che abbiamo perso un milione un milione di posti di lavoro e quando ci accorgiamo che l'impoveramento della popolazione è cresciuto e il disagio delle persone è cresciuto e quindi è importante guardare il futuro dopo la pandemia in qualche modo iniziare anche a lavorare per prevenire questi effetti molto negativi che hanno un impatto molto negativo non solamente sull'immigrati ma su tutto il paese gli immigrati ma anche se andiamo a guardare i dati dell'Istat nel 2019 che ci parlano di un milione e quattrocento stranieri che vivono in povertà assoluta che rappresentano il 26,9% degli stranieri rispetto al 5,9% dei cittadini italiani e questo è un dato ancora molto più alto nelle regioni del mezzogiorno se andiamo a guardare le condizioni abitative le condizioni di lavoro di precarietà di sfruttamento di sottosalario anche di riduzione di scavitù che anche l'Usser dell'Idus lo dice in qualche modo che le condizioni di precarietà nel lavoro e di sfruttamento sono crociute dal 15 al 20% tra i lavoratori immigrati e in particolare i lavoratori che lavorano in agricoltura gli immigrati non subiscono solamente la proprietà economica e reddittuale ma anche quella educativa e sanitaria che sono strettamente intrecciate e che producono minore possibilità di accesso ai servizi pubblici ed assistenziali minore capacità di partecipazione ad attività culturali e ricreativi maggiore limitazione nelle attività relazionali e sociali maggiore rischio di abbandono e dispersione scolastica menore livelli di istruzione situazioni lavorative precarie eccetera eccetera partendo da quelle condizioni che la pandemia ha avuto un imbatto molto più forte sui lavoratori immigrati e sulle loro famiglie anche perché ha colbito tutti ma ha avuto un imbatto differenziato in rapporto al contesto sociale alle condizioni pregressi che vivevano le famiglie e ha colpito maggiormente le famiglie povere al di là che sono italiane immigrate e in particolare molte famiglie immigrate allora perché questo perché manca una politica di integrazione anche se in qualche modo ci sono anche gli strumenti in qualche modo per barralare per realizzare anche politiche di integrazione che siano adeguate a portare i lavoratori immigrati della famiglia a maggiore inserimento nelle strutture sociali noi in questi giorni stiamo lavorando insieme a tante altre associazioni proprio oggi abbiamo inviato una lettera a tutti i prefetti della Puglia dove chiediamo di attivare di reattivare i consigli territoriali per l'immigrazione che come sapete sono degli strumenti fondamentali e importanti per fare un'analisi del territorio sul fenomeno dell'immigrazione e non solo ma per dare indicazioni al territorio che azioni possono essere realizzate per migliorare l'inserimento dei lavoratori immigrati nel tessuto sociale veramente ci sono tante cose ma forse ho superato sette minuti Antonio grazie gli hai superati ma sono stati particolarmente intensi e soprattutto grazie anche per quest'ultima considerazione che hai fatto rispetto ai consigli territoriali per l'immigrazione perché noi spesso ci dimentichiamo che abbiamo degli strumenti fondamentali quando vengono introdotti i consigli territoriali per l'immigrazione dalla legge 40 al 98 sono pensati come luoghi per concertare a livello territoriale le politiche di inclusione di fatto i consigli sono ormai dormienti e non da oggi ma da molti anni quindi sarebbe molto importante riattivare questi luoghi anche di confronto istituzionale perché ricordiamo che la prefettura rappresenta il governo a livello territoriale grazie ancora per il tuo intervento Asmi chiaro come sempre efficace come sempre do subito la parola a Stefania Qualtieri della fondazione Emanuele che è fra le realtà che è in prima linea sul territorio all'interno dell'accoglienza ma anche della creazione di spazi per il dialogo con i cittadini con i cittadini stranieri vai Stefania devi attivare il microfono non mi dire che siamo riusciti a trovare un modo per azzittire Stefania Qualtieri perché è impossibile dovresti cliccare dove c'è l'icona del microfono Stefania riparte faccio una prova io e funziona io parla prima sì magari va Maria Rosale Faggiano se no passo gli auricolari a lei se siete vicini sì passate gli auricolari a lei sì ho dovuto chiedere asilo come aspetta arrivai qua ci avete provato buonasera l'abbiamo messa tutta ma non ce l'abbiamo fatta allora intanto grazie a tutti e a tutte per me è sempre un piacere poter condividere l'esperienza di Emmanuel e sapere che c'è un pubblico di giovani questo mi entusiasma in maniera particolare brevemente pensavo a questa mattina l'anno scorso di questo periodo eravamo in piena organizzazione di un evento di un open forum Antigone ispirato alla figura di Antigone che è stato credo tra l'altro uno degli ultimi eventi pubblici organizzati sul territorio perché poi era il 29 di febbraio poi c'è stata la pandemia quindi si è chiuso con una grandissima partecipazione un evento nato proprio dal bisogno di riflettere insieme ad associazioni cittadini attivi organizzazioni docenti istituzioni c'è stata una grande partecipazione sulla difficoltà di quotidiana degli operatori sociali di trovarsi di fronte al contrasto tra la legge dello Stato e la legge del cuore quando ci occupiamo di persone ristrette in normative che non rispettano la persona la storia e la situazione che stanno vivendo trovando nei laboratori che sono stati organizzati la risposta in un'arma importante che è l'obiezione di coscienza come punto di partenza dopo aver ascoltato tutti gli interventi si rafforza in noi di Emmanuel la convinzione che competenze e professionalità vanno messe in rete assolutamente è necessario lavorare insieme sul territorio per provare a creare cambiamento certamente come dire i numeri sono fondamentali sono fondamentali per conoscere il contesto ma il nostro lavoro è quello di provare anche a cambiarlo questo contesto come si fa come proviamo a farlo cercando nei numeri appunto le persone le storie e le relazioni e avviare dei processi che possano favorire il processo migratorio di ogni persona che si rivolge al nostro servizio in questo modo proviamo questa è un po' la sfida noi crediamo molto che non è che più importante del cosa è importante come si portano avanti determinate situazioni e azioni proviamo in qualche modo a creare un sistema di accoglienza che metta al centro la persona dentro un sistema di accoglienza istituzionale che è quello nel quale siamo in qualche modo tutti obbligati a operare la realizzazione del processo migratorio per chi lavora in questo ambito si definisce diciamo che il primo step il primo passaggio è quello della restituzione di identità in un processo che è lunghissimo spesso anche molto complesso e ha come punto di partenza proprio la riappropriazione della dimensione del benessere della persona per fare questo è necessario mettere insieme operatori con le diverse professionalità assistenti sociali psicologi avvocati operatori culturali sociali che mettano al centro la persona e questa è come dire una sfida quotidiana uno degli aspetti che nel nostro lavoro siamo chiamati a considerare sempre è che questa come dire nasce da una sottolineatura del professore Ciniero il migrante prima ancora di essere un immigrato è un emigrante è una persona che lascia lascia il paese lascia gli affetti lascia la casa lascia magari uno status anche sociale riconosciuto e la spinta a lasciare è determinata quasi sempre dall'impossibilità di esercitare appieno nel proprio paese i propri diritti diritti che sono fondamentali il diritto alla vita l'esistenza dignitosa il soddisfacimento dei bisogni primari e questo il dramma qual è? non solo che questo avviene spesso nel paese che si lascia nei paesi di transito ma spesso avviene anche nei paesi di approdo nei paesi di arrivo uno degli obiettivi della fondazione Emanuele proprio da statuto è quello di come dire creare condizioni e fornire strumenti proprio per l'autodeterminazione dei popoli e delle persone quindi è un come dire una sfida che accogliamo ogni giorno ho avuto dei privilegi nella mia vita grazie ad Emanuele una di queste è stata quello per esempio di conoscere la situazione dei rifugiati colombiani in Ecuador e dei rifugiati Burkina Bay in Costa d'Avorio questo è stato perché lo dico un privilegio perché è fondamentale quando ci approcciamo ci relazioniamo con il fenomeno migratorio considerarlo in termini globali è stato detto prima ovviamente però come dire nell'esperienza nel conoscere nel vedere che questo effettivamente è un dato concreto che smuove internamente cambia e noi proviamo in questa visione a come dire come Emanuele a mettere in pratica appunto la visione della glocalizzazione mettendo in pratica il metodo di agire localmente quindi sul nostro contesto in una visione globale e questo come si fa concretamente mettendo la persona al centro la persona come è stato detto tante volte ma ripeterselo nel quotidiano secondo me è importantissimo perché io che ci credo spesso come dire sono tentata a dimenticarlo la persona è più importante dell'idea e se l'idea è un'idea valida deve potersi confrontare con la persona e trovare nuove forme per esprimersi e per poter cambiare il contesto quindi un lavoro come dire quotidiano di intervento sociale in cui siamo chiamati a mettere in discussione prima di tutto noi stessi come operatori dell'accoglienza ed è difficile e a noi aiuta molto uno dei nostri motti che proviamo in qualche modo a vivere nel quotidiano che è quello di cambiare il mondo da dove è possibile e non dall'impossibile o dall'altro ma cominciando da noi stessi dal nostro modo di pensare e di agire mi capita spesso alla fine della giornata in tutto questo come dire in queste tensioni quotidiane a chiudere la giornata con molte più domande rispetto alle risposte che diamo e agli interventi che facciamo come equip di lavoro e questo perché come dire ci troviamo di fronte al bisogno noi ci realizziamo come operatori sociali attraverso la realizzazione di questi percorsi così complessi laddove il percorso migratorio fallisce falliamo anche noi come persone nella nostra professione questo come dire è un rischio quotidiano leggevo questi dati che mi hanno così colpito legati soprattutto alla questione dei migranti forzati sono nel mondo 79 milioni e 500 mila persone esseri umani di cui il 40% sono bambini e a questo si aggiunge un dato che secondo me è importantissimo quello dei 24 milioni e 900 mila migranti ambientali un dato che è destinato a crescere e che è destinato a includere sempre più la popolazione del nord del mondo che in qualche modo si ritiene come dire al di sopra di alcuni fenomeni allora quello che mi viene in mente è se ci facciamo se mi faccio e se ascolto durante la giornata le domande che avvengono se sono appropriate si dice si sa ogni domanda è giusta ma se sono appropriate per comprendere il fenomeno e per poter intervenire non soltanto nell'effetto ma anche nella causa perché le domande che mi pongono definiscono la mia azione il mio intervento in qualche modo allora ognuno di noi avrà sentito dire tra le domande intorno a questo fenomeno come possiamo per esempio fronteggiare questa invasione di massa relativamente al nostro paese come si fa ed è una domanda che come dire mi auguro che nessuno di noi qui presente si faccia sono sicura di questo ma che riempie le bocche dell'opinione pubblica e che orienta quella che io chiamo la nanopolitica nazionale europea ed extraeuropea quindi comunque con la quale ci dobbiamo in qualche modo fronteggiare mi chiedo se l'emergenza è quella dell'accoglienza è quella di ripensare un sistema economico sociale politico che metta al centro la persona e non altri interessi vado velocissimo Antonio vedo che sei lì con il fiato sul collo un attimo per favore la domanda che mi faccio osservando nel mio ambito di lavoro la persona il migrante che accolgo io come lo vedo lo vedo come un oggetto beneficiario di qualche azione anche buona interessante ma predeterminata oppure come una risorsa economica per la mia organizzazione oppure posso cominciare a considerarlo un soggetto di diritto portatore di cultura portatore di valori di progetti senza i quali io e la società non possono migliorare non possono progredire il che vuol dire mettersi in una condizione di dignitosa reciprocità la chiamo io no cioè di ascolto un ascolto che mi mette in discussione nel mio modo di pensare io penso questo che abbiamo bisogno di rigeneratori transculturali uomini donne giovani anziani cittadini attivi che vadano un po' oltre quella che viene chiamata inclusione integrazione la mediazione e come sempre se come dire ci fosse la necessità di bastoni di questi ponti i ponti sono importanti ma più importante è sapere che io ho bisogno dell'altra persona e che quella diversità che non è soltanto una diversità per il paese di provenienza per la lingua una diversità per la cultura e la diversità che c'è io adesso vedo qui sul mio schermo Asmi Antonio Francesco Silvia che apparentemente siamo simili per tante cose ma siamo portatori di diversità in qualche modo e allora forse il problema io credo come Emanuele che è culturale è un problema sociale ci sono dei dati in questo dossier che sono importantissimi sono quelli che fanno comprendere come la fragilità l'emarginazione la subordinazione sociale sono in aumento sono in crescita riguardano la situazione della casa l'accesso alla casa riguardano per esempio l'abbandono scolastico dei minori stranieri riguardano l'accesso all'università ma questi nel dossier statistico sull'immigrazione se noi li proviamo a confrontare con dei dati relativi a cittadini italiani in condizioni economiche sociali svantaggiati sono come dire pressoché simili quindi è un problema di disuguaglianza sociale e per il quale siamo tutti assolutamente coinvolti e niente il covid ci ha stordito ci ha stordito perché è stato ci ha colto di sorpresa le parole che sono quelle che fanno il mondo il bambino fa il suo mondo con le parole che dice che hanno determinato quest'anno quasi ormai siamo arrivati sono state parole di isolamento distanziamento casa restiamo a casa abbiamo cominciato a chiederci guardandoci intorno tra operatori volontari persone ma come si fa a stare a casa per chi può sapendo che ci sono tante persone che un tetto non ce l'hanno una casa non ce l'hanno abbiamo provato a contrastare alla parola isolamento la parola coesione sociale prossimità e metterci in queste parole l'energia e l'azione di cambiamento abbiamo aperto Silvia perché è stata una delle sostenitrici e fan di questo processo lungo e lento ma molto partecipato e collettivo riporendo l'espressione di Eliana la casa bruciata noi abbiamo aperto casa comune che è una casa per persone senza fissa dimora italiane e spaniere per questa situazione e quella comunque in condizioni di grave disagio socio-economico e l'abbiamo fatto insieme a chi ha la nostra stessa visione che è quella di mettere come dire se stessi in questo processo di cambiamento mettendosi vita con vita insieme e cercando di essere risorsa attraverso le risorse degli altri condivisione di quello che siamo e di quello che abbiamo è l'unica possibilità che abbiamo per poter cambiare questo mondo quindi appello ai rigeneratori transculturali per poter mettere in questo dossier magari l'anno prossimo dei dati qualitativamente diversi che vedano l'impegno di tutti prima ancora che come dire la fragilità di uno stato che non è in grado di accogliere la persona così com'è grazie grazie Stefania adesso c'è l'intervento di Maria Rosalia Faggiano che è presidente della della Camera degli Avvocati Immigrazionisti di Lecce vedo che ci sono due mani alzate ma stiamo andando anche molto oltre il tempo che avevamo preventivati quindi se riusciamo a contenere gli interventi possiamo sicuramente dare spazio a queste due persone che si sono prenotate per il loro intervento però richiamo tutti insomma al rispetto dei tempi io ringrazio e recupererò l'intervento di Maria Rosalia con la registrazione grazie grazie tante Silvia per la tua partecipazione grazie allora buonasera appunto come ringrazio anche io il professore Ciniero per avermi invitata e anche perché siamo un'associazione diciamo abbastanza neocostituita siamo nati come Camera degli Avvocati Migrazionisti Pugliesi a giugno del 2019 quindi insomma da pochissimo se vogliamo e abbiamo avuto appunto l'intenzione di riunire colleghi e colleghi della Puglia del territorio pugliese che si occupano appunto del diritto dell'immigrazione della cittadinanza e della protezione internazionale tra gli oggetti sociali innanzitutto abbiamo previsto la formazione la promozione della formazione tra gli iscritti e dello studio ovviamente della nostra materia e abbiamo anche previsto di fornire dei pareri legali cioè di aprirci anche associazioni singoli anche cittadini non italiani ovviamente e quindi e anche abbiamo previsto delle attività di utilità sociale e diciamo che nel in questi mesi purtroppo poi il 2020 ci ha un po' limitato nelle attività però in questi mesi di primi mesi di attività della della Camera abbiamo cercato di organizzare degli eventi appunto e dei convegni e non quanto avremmo voluto ovviamente perché purtroppo non tante cose non sono state possibili e tra le cose però che mi ha fatto veramente piacere insomma di di fare è stato quello di partecipare alla redazione di un vademecum voluto dal coordinamento interprovinciale per la tutela dei lavoratori migranti in agricoltura e con il quale si davano delle informazioni per poter usufruire come fare a poter usufruire dei bonus che poi sono stati destinati e stanziati ai lavoratori che stavano patendo insomma la crisi economica sanitaria che c'è stata appunto dell'anno scorso e che purtroppo ancora perdura e quindi il 2020 sicuramente è stato un anno durissimo per tutti quanti e diciamo i nostri sistemi molti dei quali purtroppo hanno una possibilità serissime a mantenere il rapporto di lavoro o l'hanno anche perso in tanti casi e questo ovviamente con tante ripercussioni anche su giudizi in corso e situazioni che purtroppo si stanno ancora verificando però diciamo che il 2020 si è concluso con una grossa novità legislativa e io purtroppo a quest'ora vi devo parlare un po' di queste novità e sarà un po' dura probabilmente vista appunto il protrazio giustamente di questa nostra riunione comunque cercherò di essere breve sintetica quanto più possibile in maniera tale insomma da non tediarvi a lungo diciamo che questa riforma sto parlando ovviamente del decreto legislativo 130 del 2020 che poi è stato convertito in legge 173 del 18 dicembre 2020 e ha introdotto innanzitutto delle modifiche sostanziali riguardo a quella che era stata la limitazione una serie di limitazioni del decreto Salvini praticamente viene modificata ancora una volta la normativa per quanto riguarda l'immigrazione purtroppo lo si fa ancora una volta come diceva appunto Azmi Jariaui scusate anche lui diceva faceva presente che ancora una volta sì scusami non volevo chiamarti solo per nome mi sembrava scortese questa normativa è stata purtroppo introdotta ancora una volta in un decreto sicurezza e questo significa che sempre la materia di immigrazione negli ultimi 20 anni quasi 18 anni viene associata alla sicurezza e chiaramente questa criminalizzazione del diritto dell'immigrazione non ci può assolutamente stare bene al di là di questo comunque devo dire che ci sono state anche attraverso questo decreto legge 130 delle modifiche appunto che sono abbastanza importanti innanzitutto è stata rimodulata quella che una volta veniva chiamata protezione umanitaria non più appunto non esiste più se vogliamo la parola umanitaria il nostro ordinamento per quanto riguarda ovviamente la normativa sulla protezione delle persone che subono situazioni di insomma per la propria vita comunque protezione umanitaria comunque c'è una protezione speciale molto più ammbrata rispetto a quella che era la previsione del decreto salvini soprattutto è stata reintrodotta la cosiddetta clausola di salvaguardia ossia viene sentito che dall'articolo 1,1 della lettera del decreto legislativo 130 del 2020 viene stabilito che non si può rifiutare il permesso di soggiorno allorché si debba dare attuazione ad obbligi costituzionali e internazionali ovviamente il riferimento in questo caso è innanzitutto all'articolo 10 della nostra costituzione che appunto dice che hanno diritto di asilo in Italia tutti coloro che non possono esplicare i diritti fondamentali garantiti dalla nostra carta costituzionale nel loro paese e ovviamente si fa riferimento anche a tutta la normativa internazionale richiamata anche ovviamente dall'articolo 10 della costituzione e tutta la normativa internazionale proprio su che riguarda proprio i diritti umani e quindi a partire dalla convenzione di ginevra la cedu la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ma ovviamente questa norma che modifica l'articolo 5,6 del testo unico dell'immigrazione si deve coordinare con quella dell'articolo 19 sempre del testo unico anche questo è stato fortemente riformato ancora una volta da questo decreto legge 130 del 2020 e viene stabilito adesso che non sono ammessi il respingimento all'espulsione all'estradizione non è ammesso il respingimento all'espulsione di una persona verso uno stato allora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti nel paese ovviamente dove viene respinto per valutare la sussistenza di questi fondati rischi si fa riferimento all'esistenza nello stato dove dovrebbe essere respinto o espulso di violazioni sistematiche dei diritti umani questa è una prima forma diciamo di in questo caso viene previsto che alla persona venga dato il permesso di soggiorno per protezione speciale vi è un'altra tipologia di permesso di soggiorno sempre protezione speciale che a volte riguarda cosa alla persona nel nostro ambiente nel nostro territorio e quindi viene introdotto anche il divieto sempre con una modifica dell'articolo 19 viene introdotto il divieto in tutti quei casi in cui l'allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero molto importante perché ovviamente chiunque si trova in questa situazione può vedersi riconosciuta la protezione speciale prima non veniva garantita anche se comunque c'erano state anche delle sentenze ovviamente favorevoli di alcuni tribunali che avevano già esteso diciamo la protezione umanitaria a casi in cui per esempio una persona che stava facendo richiesta di protezione internazionale non era stata riconosciuta dimostrava di aver dei vincoli familiari di vita soprattutto magari in presenza anche di figli minori e in qualche modo è nata una forma legislativa di questo tipo di protezione un'altra probabilità anche importante se vogliamo sempre di questo articolo 19 è che la protezione speciale può essere concessa o a seguito di una pronuncia da parte della commissione territoriale o anche quando è la persona straniera cittadino straniero a fare la richiesta direttamente al questore trovandosi ovviamente in una di queste situazioni che abbiamo appunto visto adesso avanti abbastanza vorrei dirvi questo che un altro divieto di espulsione degli stranieri sempre articolo 19 questa volta però il comma 2 si ha quando sussistono delle gravi condizioni di salute allora era già previsto anche in questo caso anche con l'esprudenza ampliato in modo la protezione umanitaria estendendola anche a casi persone gravemente malate era già previsto che condizioni di salute di particolare gravità potesse appunto far riconoscere a dei cittadini stranieri un permesso di scoperno in Italia con la nuova formulazione proprio del decreto legge 130 del 2020 non si parla più di condizioni di salute di particolare gravità ma si parla di gravi condizioni psicologiche arrivanti da gravi patologie questo è importante perché ovviamente si amplia il campo di applicazione di questa norma e vi devo dire che sul punto c'è già stata una pronuncia anche dal tribunale di Lecce che ha riconosciuto un cittadino straniero che ha delle patologie ma soprattutto diciamo dal punto di vista psicologico per tutta una serie di situazioni sue e un suo risultato personale appunto ha abbandonato la famiglia la famiglia che ha condizioni di rischio eccetera un disagio molto grave non hanno più una casa non hanno più nulla in questo caso il tribunale di Lecce ha riconosciuto la protezione stranale ed è il primo caso sicuramente verificato qui a Lecce sicuramente credo poi un'altra nota importante è in qualche modo l'ampliamento anche del permesso di soggiorno per calamità ambientale che è stato ok che è stato che è stato ampliato anche questo è possibile e anche ovviamente è stato ampliato anche la possibilità di convertire una serie di permessi di soggiorno da per esempio protezione speciale al lavoro anche permessi di soggiorno per calamità per acquisto cittadinanza attività sportiva attività artistica poi vorrei dirvi che è stato dato un riordino anche al sistema di accoglienza e adesso oltre al cioè prima veniva chiamato punto Sprar adesso sai e verranno accolte nelle strutture di accoglienza sia i richiedenti protezione sia coloro che sono stati già riconosciuti anche coloro che hanno avuto la protezione speciale mentre prima erano esclusi un'altra norma importante è quella che riduce i termini di trattenimento nei CPR da 180 giorni a 90 che possono al massimo passare a 120 e poi altre purtroppo però ci sono anche tante norme che non sono state adeguatamente affrontate come ad esempio non è stata abolita la nozione di paese di origine sicuro ci sono ancora procedure accelerate di richiesta di protezione per una serie di rifugiati che arrivano sul nostro territorio e che addirittura vengono tenuti poi in centri di zone che sono definite zone di transito e frontiera e qui apro una di una di queste zone di frontiera dove appunto abbiamo visto l'anno scorso fino all'inizio della pandemia abbiamo visto non abbiamo visto che sono passati tantissimi rifugiati ma poi non di fatto quasi non sono neanche stati ammessi alla procedura di fatto ovviamente in teoria anche allora è stata data la possibilità di presentare la richiesta di protezione ma poi non ovviamente nessuno poteva seguire questa richiesta oltretutto con una procedura accettata insomma i diritti poi alla fine umani vengono sempre più ristretti e purtroppo non c'è stata con il decreto legislativo 130 una modifica di queste norme e anche sulla cittadinanza questa poi è l'ultima cosa che io volevo dire e poi chiudo e grazie la cittadinanza italiana come sapete la procedura per ottenere rinforzamento della cittadinanza italiana prima si doveva concludere in 730 giorni con il decreto Salvini sono diventati 4 anni adesso si dotta 3 vabbè non ci rinforzamento totalmente e un'ultima cosa è rimasta anche la possibilità di revocare la cittadinanza italiana per coloro che commettono alcuni tipi di reati e quindi note positive ma negative purtroppo anche di questa normativa grazie grazie Maria Rosario soprattutto per la tua capacità di fare sintesi di una tematica così complessa e soprattutto anche a quest'ora perché insomma stiamo andando avanti da due ore io vedo quindi ti ringrazio veramente tanto per questo per questo sforzo che hai fatto ho fatto di tutto ed è stato veramente anche per dare l'opportunità a qualcun altro di parlare io vedo che ci sono due prenotazioni però chiederei la fortesia di tenere l'intervento in non più di un paio di minuti intervento considerazione anche perché fra poco il team si chiude quindi rischeremo di nemmeno salutarci perché viene a chiudersi la riunione si era prenotata prima Brunilda riattivo il microfono così se vuole può intervenire buonasera buonasera a tutti buonasera professore io vorrei solo accennare a qualcosa io sono di origini albanesi e attualmente frequento proprio il corso del professor Ciniero la governance euro mediterranea delle politiche migratorie e volevo un attimino riprendere il suo discorso per quanto riguarda gli immigrati sovraqualificati perché io ho avuto una difficoltà enorme nel ottenere l'equipollenza del mio titolo di studio conseguito in Albania in lingue e letterature straniere anche se l'italiano non rientrava l'ho studiato da autodidatta e motivo per cui per il costo insostenibile ho dovuto poi conseguire un altro titolo italiano per poter poi accedere a una magistrale perché l'intento principale era proprio quello di continuare gli studi frequentando una magistrale in Italia ciò non era possibile quindi non mi pento dell'ennesimo titolo di studio però ciò non comporta in realtà una minore precarietà per noi anzi devo dire che è noto una tendenza veramente al contrario cioè più si è qualificati e meno possibilità ci sono sul mercato di lavoro a maggior ragione poi se si è stranieri quindi in questo senso chiederei all'autorità o chi per noi può fare il ruolo di advocacy chiederei la possibilità di dare alla pari con i cittadini italiani di dare anche a noi una possibilità di poterli sfruttare questi titoli e di ridurre la burocrazia perché non è che nei nostri paesi si studia meno anzi direi proprio per una mentalità ereditata dalla dittatura di Enverogia parlo del mio paese sono ancora a livello di didattica e di metodologia sono abbastanza rigorosi e per noi gli esami che sosteniamo qua per alcune facoltà sono abbastanza semplici paragonati a ciò che abbiamo sostenuto in Albania quindi sinceramente mi aspetterei una maggiore considerazione nei confronti di tanti anni di studio che poi vanno sprecati perché in realtà non ci viene data la possibilità di usarli ecco con questo concludo e vi ringrazio del vostro lavoro buonasera grazie a te del tuo intervento Brunilla perché hai toccato un tema fondamentale rispetto a questo che sottolinea ancora il grave ritardo del nostro paese si era prenotato aveva alzato la mano adesso vedo che l'ha riabbassato centro promozione sociale Bari se comunque vuole intervenire può farlo nulla era un va bene allora io veramente non mi resta che ringraziare tutte e tutti per i contributi per la per la discussione interessante il fatto che siano le nove che ancora siamo qui la dice lunga di quanto c'è bisogno anche di trovare dei momenti di riflessione ci auguriamo di poter tornare a fare questi momenti di riflessione in presenza perché per noi lo studio della realtà conoscere la realtà in maniera scientifica è importante ma è importante attivare questo dialogo costante con il territorio con la realtà circostante perché come messo in luce ci sono tutta una serie di di storture c'era il filosofo che diceva che i filosofi per lungo tempo hanno contemplato il mondo forse è arrivato il momento di iniziare a cambiarlo ecco ci sono tutta una serie di cose che rispetto al legge sulle migrazioni il tempo di cambiarlo l'abbiamo già superato abbondantemente quindi non possiamo che metterci al lavoro per cercare appunto di costruire nuove strade ognuno di noi può fare una sua parte veramente grazie davvero a tutte e a tutti vi saluto e vi auguro una buona serata arrivederci ciao grazie grazie a tutti arrivederci grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti